Per gli imprenditori balneari l'estate 2014 chiude con il segno meno. In Calabria nel mese di giugno e luglio si sono registrati cali dalle presenze rispettivamente del 20 e del 25%. Meglio agosto che si è mantenuto sui livelli dello scorso anno ma ciò non ha consentito di ripianare le perdite dei due mesi precedenti. Crisi economica e maltempo i principali fattori di questo flop. A luglio su 31 giorni 18 sono stati di pioggia, nei restanti 13 vento, mare agitato e temperature, tutt'altro che estive, hanno scoraggiato gli spostamenti. Il sole è tornato a splendere ad agosto ma l'incanto si è spezzato proprio con l'arrivo di settembre. I primi due giorni del mese sono stati segnati da pioggia e trombe d'aria e anche se da domani dovrebbe tornare il bel tempo, coloro i quali avevano deciso di procrastinare la partenza per godersi ancora il mare, hanno preferito levare le tende. Un trend che purtroppo è stato confermato anche dal presidente del sindacato balneari italiano della provincia di Cosenza, Antonio Giannotti. Il maltempo di queste prime 48 ore di settembre ci ha tagliato le gambe. Non disperiamo ma di sicuro ci avrebbe fatto comodo un'altra settimana di intenso lavoro. Purtroppo ha continuato Giannotti l'estate 2014, si chiude negativamente. Un calo che è stato considerato una vera e propria calamità per il settore. Tant'è che il Sib ha chiesto al governo il blocco del pagamento delle imposte e dei contributi per le aziende che sono state colpite duramente. Si consideri che in regioni come la Campania, l'Abruzzo e le Marche le presenze sono scese anche dal 70%. Un'estate da dimenticare quindi che di certo renderà duri questi mesi invernali ma che soprattutto sulla riviera dei Cedri imporrà una seria riflessione sulla questione turismo.